A tutti i telespettatori un buon telesaluto e un buon pomeriggio da Enzo Castigliani Oggi abbiamo dei grandi notizie del giorno, tre notizie farillanti, strepitosi per la La prima la presenterà la mia Cristina Parodi, zia Cetti, perché è una notizia veramente importante E sarebbe quale? Non sbagliare o no? Sbagliare Eh stop! Piccio è la centesima volta che lo proviamo, lo vogliamo fare bene per cortesia Perfetto Regia, ridatemi per favore la telecamera, grazie Cortesemente un buon serietà Grazie, prego E ci sarà uno spettacolo meraviglioso Punta Va bene, non lo testa io Via! Anche Siete capi? Siamo per andare in onda Sì sì A tutti i telespettatori un cordiale buongiorno da Enzo Castigliani E Cettina Ristuccia Oggi abbiamo tre grandi notizie importantissime Notizie veramente che potrebbero cambiare il nostro, il vostro e il destino di tutta Catanissà Speriamo sì Allora, la prima notizia è che c'è una grande manifestazione meravigliosa che si terrà giorno? 2 aprile C'è una domanda, un giorno? Presso? E presso il Steduto Rosso di San Zecone E stop! Ragazzi, è il teatro Rosso di San Zecone Scusate, eh Scusate, scusate, scusate Scusate Io già so già che mi repentirò di questa cosa Allora, io ho invitato voi apposta per fare uno spot tanto come si deve Ho riposto fiducia in voi Se me la provate milioni di volte e me la sbagliate ogni 5 minuti non ce la faremo mai Avanti ragazzi, su Facciamo la seconda Quando in qua un giornalista mangia durante il servizio? Non c'è il vero Signore, pietà E seconda? Allora, per bene Allora, a tutti i telespettatori, un po' viare saluto da Enzo Castriani E Cecchina Restuccia Abbiamo tre grandi notizie oggi del giorno che sconvolgeranno noi, voi e il mondo interno Speriamo che sia così Spera La prima notizia che presenta qui la Cristina Parodi della Puscola Castriani E che ci sarà uno spettacolo il 2 aprile al Teatro di Rosso Sanzeconto Benissimo, cosa parlerà? Ah 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 Prego Casa del Sorriso, la fabbrica della Casa del Sorriso Sarà, va bene Che praticamente sarà uno spettacolo musicale, ma non solo musicale, ma anche comico Dove tutti i proventi andranno in beneficenza Quindi andate in numerosi Ah, sentite? Andate in numerosi giorno 2 aprile A vedere questo meraviglioso spettacolo Perché sarà un'opera veramente Benefica E quella è importante Ragazzi, sabato 2 aprile, Teatro Rosso di Sansecondo Lo hanno detto anche loro Vabbè Ci vediamo Il 2 di aprile alle 21 Ci sono tantissimi ospiti Non mancate perché sarà sicuramente una figata assurda Vi aspetto tutti quanti Mi raccomando Fare un gesto di solidarietà non è mai stato così facile Ciao ragazzi Guardando questo video, dite l'oggettiva Mi raccomando Mi raccomando Devi essere presente Non mancare il 2 aprile Non mancare il 2 aprile Teatro Rosso di Sansecondo Casa del Sorriso Ciao Guardiale, buongiorno Per l'edizione del battutino Con la nostra Cristina Parodi Buongiorno Ciao Ciao Sì Bene Allora L'ultima notizia del giorno Per concludere il nostro servizio Riguarda il compleanno ufficiale Del titolare Dell'autoscuola Castriani Il signor Enzo Castriani Un'udizia meravigliosa Che Sì, per il personaggio in sé Ricordiamo infatti Che i fissaggiamenti saranno suntuosi Ci sono già mobilitate Le forze dell'ordine Per transennare la zona In cui avverrà appunto Il compleanno esclusivo Del titolare E ovviamente Tramite il nostro servizio Ve lo racconteremo In maniera particolare Ovviamente Ci è stato chiesto dalla regia Di fare un compleanno Da parte nostra Insomma Sì, sì Tutta la relazione Compreso noi E la sigla che parte a caso E in ogni caso Facciamo un compleanno Un'aura di compleanno A come si deve Giusto? Sì, sì Magari la regia Grazie Allora Vi ricordo che lo devo fare, no? Sì, come no Sì, come no Lascia farmi Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Mr. Castriani Happy birthday to you Un cordiale saluto Un cordiale saluto È buono, è buono, è buono, è buono È buono, è buono Eccoci in diretta In questo momento Come abbiamo promesso La signora Cettina di Stuccia Che in questo momento Si sta muovendo Attenzione Una grandissima partenza Ma questo è tutto merito? Di Autoscuola Castrianni Ragazzi L'eleganza È assolutamente Ricordatevi Autoscuola Castrianni Iscrivetevi In nome Ah sì Woo Grazie a tutti